I ragazzi hanno seguito una lezione incentrata sul ciclo dell'acqua e soprattutto sulla necessità di depurare le acque che noi utilizziamo per garantire la vita e la sostenibilità appunto dei reflui una volta reimmessi nel ciclo naturale quindi in torrenti e laghi. La visita di oggi all'impianto di fitodepurazione di Cadero è un po' la conclusione della parte teorica che hanno affrontato a scuola e gli permette di vedere dal vivo un impianto. La fitodepurazione è un sistema di trattamento delle acque reflui non convenzionale che viene utilizzato quando la costruzione di un impianto di depurazione convenzionale appunto non è tecnicamente o economicamente vantaggioso. In questo momento siamo nella fitodepurazione di Cadero che è una frazione di Maccagno, Compino e Veddasca e la fitodepurazione alle mie spalle serve appunto la frazione intera. È stata dimensionata per 139 abitanti equivalenti e collettati ve ne sono 77. L'utilizzo di queste piccole fitodepurazioni permette di depurare le acque reflue dei centri isolati e dei centri montani che altrimenti non avrebbero possibilità di essere depurate.